Non credo tu lo sappia, ma questo è il cavallo di Ade. Deve tornare da lui. Non mi importa. Rischierai persino la punizione di Ade per Orfi. Ascolta le mie parole. Non me ne dimenticherò. Oh, cazzo! Non dirlo a Phobos. Sei una bestia impressionante. Devo portare questo cavallo a Dodone o allo stagliere. Sheesh. Pish. Grazie a tutti. 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 Non ha idea dei problemi che mi hai risparmiato. Hai il mio favore. Grazie a tutti.